È stato confermato anche dall'ospedale Cotugno di Napoli l'arrivo di un caso proveniente dalla provincia di Salerno sul quale dovranno essere effettuati tamponi per verificare o smentire la possibile presenza del coronavirus. Il paziente è di origini cinese e da poco rientrato dalla nazione alla quale si guarda con preoccupazione per l'epidemia legata al virus. L'uomo si è rivolto al pronto soccorso dell'ospedale di Battipaglia dove i hanno deciso l'attivazione del protocollo di sicurezza che prevede l'arrivo sul posto di un'ambulanza sterile. Immediatamente tutta l'attrozzatura in dotazione all'Associazione di Emergenza Umanitas ha raggiunto l'ospedale di Battipaglia nella piana del Sele dove il paziente, secondo tutto il protocollo di sicurezza, è stato poi trasportato all'ospedale Cotugno di Napoli che rientra nell'azienda ospedaliera universitaria dei Colli. Soltanto all'esito delle analisi del tampone sarà chiaro o meno se si tratta di un possibile contagio da coronavirus. Se positivo al test si tratterebbe del primo residente in provincia di Salerno contagiato dal coronavirus. Una settimana fa un analogo allarme si era registrato al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera Ruggi di Salerno. Un paziente originario di Postiglione era rientrato dalla Cina dopo essere stato diversi mesi in compagnia della fidanzata. Ha avvertito la febbre e si è recato per il soccorso all'azienda ospedaliera di Salerno dove si è ritenuto necessario effettuare dei controlli più accurati presso l'azienda napoletana. In quel caso il test effettuato anche con un secondo tampone ha dato esito negativo.